Con l'esonero di Bertotto, in casa viterbese si deve cercare un nuovo tecnico. Il nome che per il momento sembrerebbe più accreditato, rimbalzando dal Lazio, è quello di uno storico ex, Luciano Foschi, lo scorso anno alla guida del Renate ma calciatore della truppa giallo-blu nelle stagioni dal 1995 al 1998, nelle quali ha collezionato più di 100 presenze. Un profilo, quindi, che già conosce la realtà laziale.